Poi si apre il cittadio ed ecco che si vede il pubblico, adesso non lo vedi perché poi speriamo di vederlo, ecco vedi il pubblico, grazie, un applauso, stupenda, meno male che ce l'è, io sono uno più di passaggio che fa bene. Bene, eccoci. Ecco, non sembra, ma io non c'entro niente, classicamente, ma no, classicamente, e beh, ci sono i pianoforti, ci sono meravigliosi, ma devi scaldare le mani. Che geli da manina? Che geli da manina se la lascia, oh, dolci mani, man suete pure, o mani rette, a bell'opere operose. Ah, che meraviglia. A carezzar fanciulli, a cogliere rose, a pregar giù. Ma siamo già così plastici, perché siamo già in tema operistico, siamo già... Io non sono un classico, loro, loro, lei e le altre due... Enrico, abbiamo una pianista internazionale meravigliosa che è Elisabeth Zombart, che ci farà sognare con Schubert insieme a Claire Wall, che arriva dalla Francia, due pianiste straordinarie, e insomma, poi ci sarai io, beh, io, io, nel ruolo di Chopin, con la bellissima attrice Manuela Borlotti, bellissima e bravissima, che reciterà George Sand. Sai che George Sand si vestiva da uomo? Sì, sì, e molti avevano dei sospetti, eh, perché... Eh, beh... Perché? Agli inizi... Eh, giusto. Era tutto diverso, siamo agli inizi dell'Ottocento, no? Assolutamente, sì. Adesso ci sono confusioni. Non si capisce più niente, beh, ma puoi farmi un viaggio nel romanticismo e tu sarai niente po' di meno che Giuseppe Verdi. Wow, non vedo l'ora, non vedo l'ora, sono già qua che è... Una donna che mi dice non vedo l'ora per almeno duecento anni che è qua sentito. Eh, Verdi, Verdi, per Milano poi è veramente la nostra, come dire, la nostra... Beh, Verdi a Milano è quasi casa sua. Qua a Milano, quindi insomma, siamo a casa, siamo qua a fare musica classica ma anche a divertirci perché... Ah, ecco, sì, anche divertirci perché vedete lei come allegra, eccetera, no? E io invece farò un pezzo classico da Shakespeare. Ah, bello, bello. Chi l'è Shakespeare? Ah, non lo so, lo sanno loro? Spero di sì. Sì. Qualcuno verrà ad aiutarci magari. Ma sì, ma... Quello che scriveva in inglese così nessuno capisce niente. È così, esatto. Va bene, dai, ci vediamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo numerosi.